voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa carissimi amici che siete in ascolto un cordiale saluto a voi tutti da vincenzo la cognata e bentrovati in occasione del 98esima giornata missionaria mondiale 2024 ho il piacere di parlare del messaggio del santo padre francesco assieme a don santo vitale direttore del centro missionario diocesano del diocesi di ragusa che saluto e ringrazio per essere qui con noi grazie intanto per l'invito e per essere oggi qua insieme padre santo il messaggio di quest'anno ha come tema andate e invitate al banchetto tutti vogliamo iniziare a parlarne certo questo messaggio in effetti nasce da un brano del vangelo di matteo 22 1 14 dove gesù parla con parabole e racconta una parabola la parabola dice che prende cile simile a un re che fa un banchetto di nozze per il figlio e invita gli invitati alle nozze e questi invitati ecco in effetti non accettano il banchetto lo rifiutano si allontanano anzi uccidono anche il figlio il re ecco allora che si arrabbia per tutto ciò però il re non si ferma perché nel suo cuore c'è sempre l'uomo l'amore per i suoi figli allora cos'è che fa il re manda i suoi servi fuori a cercare altri invitati andate e invitate al banchetto tutti da quel brano del vangelo ecco papa francesco trae fuori proprio questo versetto andate e invitate al banchetto tutti questa espressione in effetti è caratterizzata da tre elementi potremmo dire così un primo andate e invitate così implica questo andare e essere invitati è l'aspetto della missione l'andare chiamare invitare e la missione che ecco deve essere sempre un modo instancabile di ogni battezzato verso tutta l'umanità per invitare gli altri poiché ecco dio è ricco e grande nell'amore per tutti ma quest'amore non arriva per aria arriva attraverso ogni servo che va incontro agli altri ed invita e questo ecco nonostante a volte magari l'indifferenza o rifiuto lui continuamente manda e questo deve essere anche lo stile della chiesa una chiesa che non può rimanere chiusa in se stessa una chiesa chiamata ad uscire che non significa chiudere le porte della chiesa dove non c'è nessuno ma significa guardare oltre la porta per farsi prossimi agli altri anche quelle singole persone che passano per strada e l'andare incontro verso tutti e ogni cristiano da questo punto di vista è chiamato a prendere consapevolezza di questa chiamata è una chiamata universale è una chiamata per tutti a volte quel dramma della chiesa è proprio questo purtroppo di un gesù che bussa il nostro cuore dal di dentro perché vuole uscire e magari che io mi fermo alla preghiera alla santa messa al catechismo e non riesco ad andare oltre non riesco ad essere segno e testimone nei diversi ambienti di vita al lavoro a scuola in comunità nel vicinato nel condominio ecco a volte si rimane chiusi in se stessi ho partecipato a messa sono a posto sono tranquillo dimenticandosi che in effetti alla fine di ogni celebrazione c'è sempre un mandato andate andate incontro agli altri questo andare implica un invitare gli altri invitarli al banchetto eucaristico il banchetto implica anche l'aspetto della prospettiva escatologica il dio che prepara il banchetto eterno per tutti quanti ma questo banchetto ecco in effetti già l'eucaristia e quando noi ecco partecipiamo in effetti già viviamo questa dimensione di questa amore di dio così grande per ciascuno di noi questo è quello che diventa importante perché a volte magari si partece alla celebrazione eucaristica per dovere di domenica devo andare dimenticandosi di ciò che vivo in quel momento lì dove quel pane quel vino nel mezzo del sacerdote nello spirito santo diventano il corpo e sangue di gesù colui che mi nutre che mi dà la vita e mi dà questo dono non perché rimanga in me ma perché possa portarlo agli altri e allora ecco già il partecipare al banchetto anche lì deve avere una dimensione nuova di consapevolezza di questo dono così grande di questo benessere che dio dà a ciascuno di noi anche oggi nel mondo ci sono tanti banchetti c'è un banchetto del consumismo del benessere egoistico dell'accumulo del individualismo il banchetto cristico invece un banchetto di condivisione di gioia per tutti implica quindi la giustizia la fraternità la comunione con dio e con gli altri la pienezza di vita che partecipa al banchetto carissimo in effetti accoglie questa vita piena ed è chiamato a condividerla e chiamato ecco a portarla anche agli altri il terzo aspetto tutti c'è questo invito forte tutti non ci può essere un'esclusione si è mandati a cercare tutti nessuno escluso questa missione nasce dal cuore di cristo cristo è venuto a cercare ogni persona anzi lui veniva accusato che mangia con i peccatori questo mangione beone ma ecco gesù volto misericordioso del padre colui che manifesta quest'amore per ogni uomo che sulla terra lui che cerca tutti perché ognuno possa partecipare al banchetto caristico certo c'è l'aspetto dell'uomo della risposta è vero lui mi cerca mi ama mi invita mi manda a cercare gli altri mi invita ad invitarli a partecipare al banchetto ma occorre che in effetti ci sia un sì bisogna dire solo sì per accogliere questo dono gratuito sì signore sono qua sì ti apri il mio cuore sì ti accolgo nella mia vita sì quest'amore in me desiderlo condividerlo con quelle persone che tu mi metti accanto allora questa giornata missionaria ci invita lasciati amare accogli quest'amore portalo agli altri cerca gli altri invitali perché ognuno possa partecipare al banchetto caristico e anche quando ci può essere un rifiuto dall'altra persona non ti scoraggiare vai oltre ecco allora la propria idea è piena di speranza di vita di misericordia e invita anche noi ad essere misericordiosi pieni di amore nell'andare a cercare gli altri con quella speranza che è dono di dio sempre qual è il legame da questo punto di vista tra missionarietà e sinodalità la sinodalità implica il camminare insieme pertanto l'essere missionario non si è mai da soli gesù chiama i discepoli poi ne chiama in uno dei brani bilbici altri 72 e li manda due a due insieme caratteristica non è tanto il parlare ma la testimonianza di vita il camminare insieme l'essere segno dell'amore di dio con la propria vita gli altri guardano le nostre relazioni guardano come ci comportiamo guardano viviamo a volte magari si sente dire vanno in chiesa poi guarda come si comportano però diventa importante questo per un credente per un battezzato non fermarsi alle parole non fermarsi o partecipare alla santa messa sono a posto ma occorre vivere insieme camminando insieme per quanto riguarda gli appuntamenti dell'ufficio missionario in diocesi quali sono l'ottobre missionario è cartizzato da diversi momenti anche a livello diocesano poiché compito del centro missionario diocesano è quello di essere il centro di animazione nella diocesi nell'aiutare le diverse comunità parrocchiali allo stesso tempo nell'essere anche il tramite per tutti quei missionari blei che sono in giro per il mondo così che anche quando questi missionari per esempio tornano da noi nell'aiutarli nell'essere presenti nelle diverse comunità perché possono dare loro testimonianze e aiutarci a crescere nell'essere consapevoli di essere chiamati ad essere un dono per gli altri il mese dell'ottobre missionario inizia con la festa di santa tesi su bambino che il primo ottobre e quest'anno il primo ottobre viene iniziato in effetti alle oli diocesi l'anno giubilare diocesano e questa festa è stata pertanto anticipata il giorno prima il 30 settembre e la giornata anche delle religiose ed ecco da diversi anni in effetti durante questo giorno si celebra l'eucarestia dalle sue carmelitane con la presenza delle religiose della nostra diocesi ed è un momento arricchente perché oltre alle religiose ci sono anche i laici membri delle diverse comunità parrocchiali e questo vende con una ricchezza per camminare insieme tra l'altro quest'anno ha preso la celebrazione caristica padre sebastiano amato lui di monte rosso almo missionario savirano in congo da tanti anni e quindi ecco anche ascoltarlo la sua esperienza arricchito anche ciascuno di noi non solo abbiamo noi pregato prima il santo rosario missionario poi ecco la celebrazione caristica ma tra i due momenti c'è stato anche un momento di testimonianza di suore della nostra diocesi da parte delle suore ex cocuore loro che vivono questa internazionalità questa bellezza a volte mi domando chissà se la beata maria schienerà poteva immaginare tutto questo di questa internazionalità così stupenda che rende ricca veramente questa comunità e questo istituto religioso e tra i presenti c'erano anche i suori di diversi paesi dall'asia dall'africa che hanno dato le loro testimonianze vorrei dire forse una cosa non molto bella a volte si pensa magari queste si fanno sue perché non hanno soldi oppure per uscire di là e invece non è vero ogni chiamata nasce sempre dall'amore e questo è per ciascuno di noi e anche loro sono qua perché hanno scoperto quella chiamata dell'amore di dio nella loro vita e quindi ecco anche le loro testimonianze sono state molto arricchenti per tutti quanti noi perché a partire dalle loro storie di vita della loro condivisione ci hanno fatto comprendere questa bellezza dell'amore di dio per esempio uno di queste suore del kenia ci raccontava che lei laureata in economia e commercio lei che lavorava in banca lei contemporaneamente che cercava qualcosa di più di diverso e lei che scopre pian piano questa chiamata di dio e cerca di comprendere che cosa significava questa chiamata e come poterla anche realizzare è incredibile ci ha stupito cosa ci diceva ha scoperto le sue della beata maria scherina attraverso i social ecco noi siamo rimasti a essere fatti commossi a volte noi pensiamo ai social dove ci sono i ragazzi e le ragazze che si cercano per un saluto per una conoscenza ecco lì abbiamo scoperto che dio ci parla anche attraverso quei mezzi lei attraverso i social ha conosciuto una suora della beata maria scherina del canada e adesso si trova da noi qua in italia ecco tutto un percorso incredibile passo dopo passo con le sue difficoltà con le gioie allo stesso tempo nel fidarsi e affidarsi a dio e questo è qua commosso tutti quanti noi non lo scoprire ecco proprio la bellezza di un dio che chiama nei modi diversi e chiama anche ciascuno di noi nei modi diversi e questo ecco allora pertanto il primo ottobre all'inizio Teresa Gesù Bambino compatrona assieme a San Francesco Saverio delle missioni poi durante il mese dell'ottobre missionario già da qualche anno io mi sono posto questa domanda non basta parlare ma il primo missionario tocca a me essere in quanto direttore per cui già da diversi anni durante i mesi di ottobre ogni settimana mi sposto per celebrare la messa in una parrocchia di ogni vicariato e questo ecco per essere come presenza segno nella semplicità di quella celebrazione caristica nello spezzare la parola nel condividere qualcosa il messaggio dell'ottobre missionario e questo ecco diventa una ricchezza per tutti quanti un invito e anche quest'anno ci sono i diversi momenti il 14 ottobre sono nella chiesa animale santa del purgatorio a vittoria il 22 ottobre saranno il vicariato di comi sono la chiesa di sant'antonio di padova e poi ancora a ragusa il 28 ottobre nella chiesa lecce omo questo come direttore poi ci sarà la giornata missionaria mondiale che sarà il 20 ottobre è un momento di preghiera è un momento in cui anche le offerte credative raccolte vanno nel pontificio premissionale per la realizzazione dei diversi progetti e lì si è invitata la dioce nelle sue diverse comunità a prepararsi per arrivare a quel momento lì attraverso il momento dell'adorazione caristica del santo rosario della veglia di preghiera e questo è già da diversi anni l'invito è posto ad ogni parrocchia questo perché ogni comunità possa vivere il suo essere battezzati ogni battezzato è un missionario ogni battezzato è un inviato e allora ecco viverlo a livello parrocchiale in comunità questo aiuta tutti quanti a prendere consapevolezza per essere testimoni questo perché come ci dice anche il papa ogni battezzato è un missionario è un inviato e non è necessario andare in africa in america o chissà dove no ma è necessario vivere proprio essere cristiani lì dove si trova iniziando la propria famiglia nella comunità nel luogo di lavoro lì dove si trova chiamata ad essere segno dell'amore di dio lei prima parlava di uscita dalle parrocchie in base a quello che ci viene detto nel messaggio spesso noi vediamo che c'è questo atteggiamento diciamo di maggior chiusura allora cosa possiamo suggerire per andare oltre la dimensione parrocchiale quindi diciamo rendere la missionarietà più ampia un primo aspetto che il nostro vescovo in effetti ci ha aiutato in questi anni è quello del cammino sinodale nella diocesi ma anche attraverso le parrocchie quel camminare insieme questo è che ci fa comprendere dove ciascuno di noi non è la mia parrocchia la mia comunità la parrocchia di dio la comunità di dio ciascuno di noi siamo sinceramente strumenti e allora camminare insieme ci aiuta questa cresce a prendere consapevolezza ad essere strumenti nelle mani di dio ci aiuta ad alternarci anche come sacerdote una parrocchia all'altra non perché la propria comunità ma perché la comunità di dio tutti quanti siamo figli di dio nessuno di noi salva l'altro è soltanto lui che salva me l'altro salva tutti quanti noi tutti quanti noi pertanto strumenti nelle mani di dio per camminare insieme e anche questo è un momento importante pertanto nel nostro cammino di diocesi nel camminare insieme nel fidarci a fidarci a lui poi dicevo prima l'ottobre missionario ma come ufficio vi dicevo poc'anzi che ci saranno anche tanti altri momenti durante l'anno intanto ci sarà anche la giornata dei religiosi e dei sacerdoti questo il 3 dicembre giornata di san francesco saverio sacerdote patrono delle missioni e poi ancora il 6 gennaio giornata dell'epifania è la giornata missionaria dei ragazzi anche lì ecco siamo invitati ad aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza del battesimo che i genitori hanno dato loro di quegli incontri catechesi che non sono finalizzati ecco ai sacramenti ma nel crescere e fra esperienza l'amore di dio e non avere quell'attenzione anche verso quei ragazzi che non hanno niente noi a volte abbiamo tutti siamo insoddisfatti non ci rendiamo neanche conto e soltanto guardando gli altri nella realtà anche attraverso dei video delle immagini che prendiamo consapevolezza di quanto dio è grande a volte gli altri non hanno niente sono felici contenti noi abbiamo tutto invece ci sentiamo vuoti forse perché ciò che dà pienezza è soltanto il signore poi continuo questo percorso a marzo il 24 marzo si celebra la trentatresima giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri quel giorno quale ancora stato ucciso santosca rannulfo romeo vescovo e martire e appunto da trentatré anni in quella giornata si ricordano tutti i martiri in sua memoria quei martiri che ancora oggi vengono ucciso proprio perché cristiani nelle diverse parti del mondo e anche lì ecco l'invito pertanto a vivere una via crucis missionaria in memoria dei martiri poi ancora ecco aspetto particolare a maggio la sesta domenica di pasqua dove preghiamo per i missionari blei preghiamo per loro e anche le offerte ecco di quella domenica sono un piccolo segno della nostra vicinanza a queste persone della nostra diocesi che hanno accolto la chiamata e che sono in giro per il mondo questo per fargli sentire questa vicinanza la nostra presenza la nostra accoglienza questo camminare insieme dall'anno scorso con l'ufficio missionario è stato anche incaricato e di proporre nella diocesi quelle proposte di quella fondazione di diritto pontificio che aiuta la chiesa che soffre e attraverso questa fondazione che manda i diversi materiali adorazioni eucaristiche oppure ecco dei santi rosario con delle preghiere particolari con dei racconti di tutti quei cristiani che nel mondo soffrono e ogni mese qui viene proposto un paese diverso e questo ci aiuta a cogliere che cosa dove i cristiani non sono soltanto in europa noi immaginiamo i cristiani in europa invece no ci sono tanti cristiani in africa anche se sono di colore scuro tanti cristiani in asia anche se hanno gli occhi a mandorla o altri in america latina anche se hanno delineamenti indigeni questo ci ha da prendere consapevolezza i cristiani nel mondo nella loro diversità figli dell'unico padre e questo ci aiuta a crescere ogni giorno di più missionari blei della nostra diocesi attualmente dove li troviamo dislocati principalmente troviamo in africa c'è intanto un fidedon laico gino mineo che di gerratana lui fa parte dell'ambito dei focolarini e lui da tanti anni si trova in africa ed ecco la sua condivisione a volte l'esperienza ecco questo arricchisce anche tutti quanti noi si trova in burundi poi da diversi anni in madagascar si trova alberto salerno anche l'unico laico con le diverse vicissitudini parte con le sue del sacro cuore scopre con quella chiamata in effetti a vivere la sua esperienza missionario poi ancora ecco nelle filippine troviamo suor camelita delle sue del sacro cuore ecco anche lei diventa una ricchezza per tutti quanti noi nel condividere con noi diverse esperienze di quegli ambienti così lontani e anche delle esperienze dell'istituto del sacro cuore nell'evangelizzazione di altri paesi vicini e poi ancora in india troviamo elisabetta salafia elisabetta lei la moglie del dottor salafia lui era un missionario di ragusa deceduto e lei da vedo ha continuato l'opera di suo marito e anche questo è molto bello l'opera è con i ragazzi nelle scuole l'opera è con quelle persone abbandonate perché magari viene di lebre o di tante altre malattie e marginati poi in america latina si trova un laico lui sposato gianni vaccaro in perù da diversi anni lì e anche lì è con un'associazione che aiutano i ragazzi nella scuola nell'ambito sanitario e anche le comunità che sono lì presenti poi ancora in brasile c'è un altro diocesano un sacerdote fidedon giovanni giglio anche lui da diversi anni lì con la sua presenza arricchente non solo là ma anche quando torna da noi nel condividere le esperienze vissute in un posto così lontano e ancora in ecuador padre salvatore di modica lui è di vittoria da tanti anni in ecuador è già anziano ma ancora lì c'è dentro con tutta la sua vita nell'essere segni e testimoni anche per ciascuno di noi negli anni passati ci sono state anche altre religiose religiosi e anche altri laici che attualmente sono in italia così come altri si trovano anche nord america c'è padre daniele lui del pime continua lì la sua missione o ancora da vittoria padre paolo giandino tu lui è stato diversi anni in perù e adesso si trova in spagna ad accompagnare similaristi e contemporaneamente ecco viaggio anche in perù per essere vicino a quelli che sono lì nel posto o ancora in italia si trova solo maria raudino per tanti anni missionare anche lei in africa lei di gerratana ancora di gerratana solo giovanna adesso lei si trova in campagna ma per tanti anni a hong kong o ancora a roma si trova solo lucia cipresso anche lei per tanti anni in perù superiore a lingua sostituto e adesso a roma ecco nel vivo la sua missione così ecco come anche dei laici alcuni sono qua da noi nel ragusano ricordiamo umberto virgadaulo e sua moglie salvatrice sono loro sono di vittoria sono stati diversi anni in romania e un'altra coppia sono stati per diversi anni in cile salvatore e sua moglie che ora non ricordo bene il nome così ecco come ancora sandra ecco un'altra che in colombia per tanti anni ma adesso anche lei qua a ragusa parte l'equipe dell'ufficio missionario ecco la vita la sua complessità si va si vive si ritorna si condivide si cresce insieme dove la ricchezza di ciascuno diventa un bene anche per gli altri ci sono anche altri giovani che vanno anche per poco tempo ultimamente c'è una ragazza di marina di ragusa valentina anche l'anno scorso l'è stato un mese in africa nel vivere la missione la contemplazione ecco può sembrare strano la contemplazione eppure ecco anche lì questi momenti dove lui ha vissuto di interiorità di intimità con dio e contemporaneamente ecco l'aspetto della missione ognuno è un dono per gli altri perché i doni che dio dà ciascuno di noi non sono per noi stessi ma sono sempre perché possono gli altri crescere nel suo amore è questa la bellezza della missionarietà cosa vogliamo dire a chi ci ascolta in merito a come vivere la missionarietà oggi non è così scontato come sembra certo non è scontato come sembra prendi consapevolezza i tuoi genitori hanno battezzato punto di partenza il battesimo ti hanno battezzato nel farti diventare figlio di dio e prendere consapevolezza che hai un dio che padre dio è padre di tutti quanti l'essere battezzato implica prenderne consapevolezza nel maturare nel crescere e pertanto ecco questo implica che vivi da figlio di dio non può essere tanto dire sono figlio di dio ma ti tocca vivere da figlio di dio come faccio a prenderne consapevolezza beh partecipando alla celebrazione eucaristica a te lo sopra di dio e lo conosco sempre di più trovo delle risposte nella mia vita che partecipare al banchetto eucaristico ecco diventa quel nutrimento per me quella forza e mi dà la vitalità mi dà la vita magari fuori il mondo continua ad essere pieno di problemi ma in ciascuno di noi che partecipando diventa diverso nuovo con quella forza capace di affrontare quella realtà allora coinvito ogni battezzata a prendere consapevolezza del dono che i genitori hanno dato per far maturare quel dono per viverlo per nutrirsi la parola dell'eucaristia e solo in questo modo prendendo consapevolezza l'amore di dio nella propria vita ciascuno di noi può essere poi segno di questo amore verso gli altri quelle persone che dio ci mette accanto ogni giorno saluto e ringrazio don santo vitale per essere stato qui con noi grazie intanto per la disponibilità poiché anche attraverso questa radio ecco anche altri ascoltando possono mettersi in cammino nell'amore di dio ed essere segno di quest'amore invitando gli altri a banchetto eucaristico grazie ancora un saluto a voi tutti da vincenzo la cognata che vi augura buon proseguimento con i programmi di radio caris in blu avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa grazie a tutti